Un momento intenso di vicinanza e solidarietà. Giovedì mattina Papa Francesco ha ricevuto una delegazione della Comunità Mondiale degli Yazidi guidati da Tassin Saeed Ali Beg. Ricordiamo che gli Yazidi nel mondo sono circa un milione e mezzo, di cui circa mezzo milione vive in Iraq, mentre altre in Turchia, in Georgia, in Armenia, in Diaspora e in molti altri paesi. Sono insieme con i cristiani tra le minoranze in Iraq costrette a lasciare la piana di Ninive per le violenze dei jihadisti del sedicente Stato Islamico.